Stefano Guerrera, autore di Se i quadri potessero parlare, arte e social media, ci può illustrare la sua esperienza. Funziona? Sì, ecco. Buongiorno a tutti, io sono veramente tanto tanto contento di essere qui perché per me in realtà il mio progetto è leggermente diverso, sicuramente è un po' più particolare, possiamo vederlo insieme. Io ho fondato due anni fa una pagina su Facebook, partiamo dal presupposto che io sono la cosa più social sulla faccia della terra, è un progetto che nasce su Facebook circa due anni fa ed è diventato molto virale perché in circa 24 giorni ha raggiunto la cifra incredibile di 500.000 contatti e mi piace in realtà. È un progetto che è sui social, rimane sui social, l'ho esportato su tutte le varie piattaforme e appunto faccio parlare i quadri. Questo vabbè ovviamente è un quadro celeberrimo, lezioni di anatomia, dove appunto scatenando questo cortocircuito tra ricordi e rimembranze di giochi di società come l'allegrochirurgo, ho messo in pratica se si accende il naso perdi. Ora in realtà questo è un processo che applico a quadri più o meno famosi. Ho utilizzato un'app che in realtà è molto molto giovane e in Italia è quasi sconosciuta che si chiama Snapchat e tramite questo l'ho portato poi su tutti i vari social network. Quindi questo è quello che faccio e prendo tutti quanti i vari quadri, questo è un quadro di Shal, una fanciulla e io ci ho scritto ma che splendida giornata di ansia. È come se per me parlassero. Questa cosa ha avuto dei numeri incredibili, nel senso che rendendoli così tanto condivisibili tutti quanti iniziano a condividerli e raggiungono veramente cifre incredibili. Ci sono dei post che raggiungono anche 3 milioni e mezzo di persone, quindi l'impatto che ha è veramente molto molto importante. Di solito utilizzo il romanesco che secondo me è una delle inflessioni che meglio si possono adattare ai quadri e questo è molto molto carino secondo me. Questo quadro si chiama La castità di Giuseppe e secondo me era perfetto così. Ora questo cosa scatena in realtà fra tutte le persone che mi seguono perché il seguito è veramente incredibile, ad oggi conta 1.200.000 fan solo su Facebook e le persone quando vanno nei musei mi mandano i loro contributi, quindi cercano anche loro di far parlare i quadri ed è questo insomma una cosa fondamentale perché effettivamente per farlo parlare il quadro lo devi vedere. E sono contento soprattutto di essere qui perché effettivamente è stato apprezzato questo risvolto didattico. Questo è il Rigaud, è Luigi che non era perfetto. Questo ricorda Titanic e mi dispiace c'è solo c'è posto soltanto per uno. Questo è come se fosse un selfie, dai amo scatta, i garacci, però se vuoi restiamo amici, è cupido. Questa è Ophelia e mi chiami tu che ho finito i minuti perché per me è come se stesse parlando al telefono e quindi credo che funziona questo meccanismo, questo cortocircuito è che prendendo qualcosa di molto antico io lo attualizzo e lo rendo pop, diciamo così. Questo, grandi mondiali. Il bastone dei selfie non si deve vedere perché sono tutti quanti molto social e quindi molto molto condivisibili e soprattutto il pubblico, l'utente medio che segue tutto quello che faccio è molto molto giovane e quindi è quella la cosa fondamentale. Scusi, potrebbe aggiungere un po' di vodka? Perché? E questo è il quadro in realtà un po' più iconico di tutti. È Carlo Dolci, Allegoria della pazienza, che è diventato totalmente virale ed è diventato un po' il manifesto di quello che faccio ed è amatissimo, è postato ovunque, ripreso, rifatto anche in tutti i dialetti perché la cosa fondamentale è che questo è l'assenzo di Degas e pensavo che così con due parole dicesse tutto perché era perfetto così e la cosa fondamentale è che il progetto, ed è questo che ha scatenato questo grandissimo successo è stato poi adattato a tutti quanti i vari dialetti d'Italia, quindi non c'è soltanto se i quadri potessero parlare ma c'è se i quadri potessero parlare parli ermitano, ligure, con tutti i vari dialetti d'Italia quindi insomma sono contento perché effettivamente ha avuto una grande risonanza e credo che unendo queste due cose possa dare un apporto importante alla cultura, quindi grazie. Grazie Stefano, anche perché questo serve al ministro che va a parlare di copyright se non si potessero riutilizzare le opere tu non potresti renderle contemporanee in questa maniera e suggerire ai social una sorta di buon gusto in più perché vorrei far notare che tu, i tuoi milioni di follower eccetera, si inseriscono in un brodo di rutti e di schifezze che hanno certamente successo ma che si giovano diciamo del buon gusto che suggerisci. Se in realtà posso aggiungere qualcosa? Perché secondo me è abbastanza interessante due settimane fa ero a Los Angeles all'ACMA che è uno dei musei che per primo ha fatto questa cosa di far parlare i quadri non so perfettamente le tempistiche quali sono state, però lì mentre ero al museo io ho fatto quello che faccio da casa e quindi l'ho fatto direttamente live ed è stato molto molto apprezzato perché poi inevitabilmente facendolo live facevo la fotografia live e ci aggiungevo la di da scaglia sotto e hanno apprezzato tantissimo quindi il processo funzione potrebbe essere insomma importante farlo notare scusate volevo aggiungerlo, l'avevo dimenticato mi sembra appunto importante e ripeto fa parte di questa cultura remix nella quale copyright deve rendersi conto che il parlare con la rielaborazione culturale contemporanea fa diventare le opere più presenti nella vita delle persone dei giovani, di quelli che le vogliono vedere con un occhio diverso, le vogliono far parlare con un occhio diverso grazie Stefano